Benvenuti alla prima lezione di italiano. Ciao Anna. Ciao Mario. Buongiorno signora Elsa. Buongiorno signor Luca. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Anna. Buongiorno, lei come si chiama? Buongiorno, mi chiamo Elsa. E lei? Buongiorno, io mi chiamo Luca. Piacere. Let's recap, but please pay attention to what each of the characters says and spot the differences. Io mi chiamo Mario. Io mi chiamo Anna. Lei si chiama Anna. Lui si chiama Mario. Io mi chiamo Luca. Io mi chiamo Elsa. Lei si chiama Elsa. Lui si chiama Luca. Come ti chiami? Lei come si chiama?